Da quanti anni pratichi sport? 14 anni sto alle media e faccio giovane artistica, golf, bowling e nuoto. Si chiama Davide Raffa, frequenta il corso prelavorativo presso l'agenzia formativa CIAC di Cirie, un corso finanziato dall'FSE, Fondo Sociale Europeo, e dalla città metropolitana di Torino. Davide è un campione, un atleta olimpico, che a marzo ha trionfato agli Special Olympics Games di Abu Dhabi e ha portato a casa ben sette medaglie, un oro, cinque argenti e un bronzo, nella sua specialità la ginnastica artistica. Com'è stata l'esperienza ad Abu Dhabi? Bellissima, mi manca quel posto. Come hai reagito quando ti hanno comunicato che avresti partecipato alle Olimpiadi? Ero molto felice di quello che ho ottenuto. Tu pratichi tanti sport, come riesci ad organizzare la tua giornata tra lo sport, il corso che stai frequentando e lo stage? Vengo a scuola, poi negli stessi giorni ho ginnastica e oggi c'è anche nuoto, quindi riesco a gestire bene le cose anche con lo stage, quindi sotto assammato ce la faccio. Il corso che sta frequentando Davide prevede 90 ore di stage. In particolare Davide in questo momento è ospitato presso un maneggio della zona dove si occupa di curare i cavalli, sistemare la stalla, portare fuori gli animali quando ci sono i corsi. Nella seconda parte del suo stage si sposterà ad azienda presso una piccola attività commerciale, in modo che abbia anche la possibilità di relazionarsi con le persone. I corsi delle agenzie formative, comprese CIAC, rappresentano una seria opportunità per i giovani come Davide, che non hanno ancora un lavoro e consentono di sviluppare le abilità relazionali e prendere consapevolezza dei punti di forza. I percorsi pre lavorativi presso il CIAC sono percorsi a tutti gli effetti di inclusione, sono finalizzati a far emergere quelle che sono le caratteristiche dei ragazzi indipendentemente dalle loro disabilità e dalle loro difficoltà. Puntano a concetti di socializzazione, inclusione, abilità nel identificare delle soluzioni anche a problemi banali, ma soprattutto mirano a mettere la persona nella condizione di poter essere autonoma una volta inserita all'interno di un contesto futuro professionale. L'obiettivo non è dare una professionalità nel vero senso del termine, è mettere queste persone in grado di costruire la propria professionalità facendo leva sulle loro caratteristiche principali e non soltanto sulle loro difficoltà. La città metropolitana di Torino finanzia da quasi 20 anni corsi di formazione professionali pre lavorativi per allievi con disabilità medio grave. CIEC è un ente di formazione che opera da 50 anni sul territorio canavesano, che è diventato quindi un punto di riferimento importante e ha stretto collaborazioni con enti locali, enti pubblici, imprese private. La sua finalità è quella di erogare formazione per diverse tipologie di utenza, dai ragazzini in obbligo formativo, alle imprese, agli adulti, ai ragazzi disoccupati. Nell'anno scolastico 2018-19 sono stati 10 corsi di formazione professionale pre lavorativi per allievi con disabilità medio grave portati avanti dalle varie agenzie formative accreditate su tutto il territorio metropolitano con il coinvolgimento di circa 200 allievi. Come ti fa sentire questo corso? Cosa ti sta insegnando? A stare bene con gli altri, a sentirmi più sicuro di me stesso e a stare bene con i miei compagni di classe.